come potete vedere riprendo un post di lucio malanne lucio malanne credo che sappiate chi è faccio una cosa trasgressiva cito i dati ufficiali dell'istituto superiore di sanità nell'ultimo mese i vaccinati con due o tre dosi sono il 62 per cento dei contagiati il 50 per cento dei ricoverati il 30 il 36 per cento delle terapie intensive il 55 per cento dei decessi la matematica la matematica vedete contro la matematica non si può andare vi invito a iscrivervi al mio canale sono su youtube giorgio riccardin ho anche un gruppo telegram sempre giorgio riccardin se avete piacere vi scrivete l'iscrizione è assolutamente gratuita anche like è invece gradito perché mi consente di avere più visualizzazioni e di far girare maggiormente i contenuti proposti grazie per l'attenzione cari amici e alla prossima video pillolina grazie 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 grazie